4 anni significano tanto e significa soprattutto per aver ricevuto una festa così bella aver dato tanto ma chi fa le cose nella chiesa è il signore non sono io e anzi in questi 4 anni mi sono reso conto veramente di quanto la chiesa sia di dio e non di noi uomini perché anche se noi ci spendiamo l'arcivescovo quando mi ha nominato parroco di san martino mi ha scritto una cosa nel decreto di nomina lavora come se tutto dipendesse da te nella consapevolezza che tutto dipende da dio ecco io ho cercato di ispirarmi a questo programma lavorare come se tutto dipendesse da me però vedendo che ogni giorno nonostante le mie mancanze nonostante la mia pochezza nonostante la mia debolezza di mezzi umani di opera opera grandi cose e in questi quattro anni ho visto grandi meraviglie perché san martino è un paese veramente straordinario dove c'è gente buonissima che vuole fare sul serio nel cammino con il signore che quando il parroco chiede qualcosa è subito disposto a mettersi in gioco e a dare una mano di aiuto e quindi tante sono state le cose che si sono fatte in quattro in questi quattro anni tanto quelle che si potevano fare non si sono non si sono fatte non perché il signore non le abbia disposte ma per la limitazione di mezzi umani e però la cosa bella è che ogni giorno di più mi sento onorato di essere il parroco di san martino